Hola Sabo Family, come state? Tutto bene? Non me ne frega assolutamente un c***o, come sempre lo sapete, io continuo a dirvi che non me ne frega e non lo sento ciò? Italiano non è facile, balbetto sulle mie stesse frasi. Come vedete il mood dello studio, come vedete il mood della maglia, oggi andiamo a reactare a 100 ops di Shiva. Come sempre, se non sono in casa mia o nella mia agenzia o da Finesse, oggi siamo da Finesse Studio, Finesse House, grazie Finesse House che mi ha permesso di fare questo video qui dentro, nel vostro studio. Allora Shiva, da un po' che non droppa e da un po' che non esce, andiamo a vedere quello che potrebbe creare questo ragazzo, 100 ops, guardate un po' com'è swag, è swag un po', e Shiva, facca il c***o anche per me, manda qualche Jordan anche per me, facca il c***o, dai. No, no, scherzo, poi dico, non ne approfitto. No, non mi frega, manda, manda. Ok, 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 ok. Senti quel beat? Senti quel beat? Senti quel beat? Senti quel c***o di beat? Senti quel beat? Guesh da Milano Guesh da Milano Ed, let's go, let's go Oh dieci cops Dieci, her force entrambi sono sui miei passi nel senso che i Air Force sono comunque li sono nei suoi piedi ma anche i cops aaaaaaah Shiva damn ora penso come un re ma mi muovo come un ladro mi muovo come un ladro cioè lui pensa come un re sapete quello che significa pensare come un re che lui quando cammina pensa così si sono io il re re Shiva ma quando si muove si muove così oh shit ha più anelli di uno sposo ma alla fine se ci pensiamo lo sposo ha un anello eh ma ne ha tanti fa un culo il ministro cosa metto pure sul mignolo fa un culo il ministro e sala la santana è il vero sindaco quindi loro sono i sindaci 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 a italiano non è facile la tua bici è in zona nostra torna che è tornata singolo torna col mio mignolo singolo per questo che io la tua bici è tornata la tua bici è tornata no no mi ascoltiamo mi ascoltiamo che è tornata singolo torna col mio mignolo la tua bici è in zona nostra la tua bici è in zona nostra la tua bici è in zona nostra è tornata singolo la tua bici è in zona nostra la tua bici è in zona nostra è così adesso il fiato anche se ne va piano piano eh per chi mi sente troppe vivere in giro bisogno di un giardiniere conto mille su mille nessuno di queste vede nella street sono un leader ma onesto con la mia gente tok tok mi serve aria al tok c'è la mia squadra mirando con un famasco fra la scena italiana wow shit tok tok c'è la mia squadra mamma mamma tok sei mamma cambiata no Questo entrerà nella testa di tutti, lo sappiamo già, entrerà nella testa di tutti. Shiva fai il piano, lascia spazio agli altri, lascia un po' di spazio anche tu, no? È normale? Io ovvio vengo a fare le reaction, voglio un po' di good vibes, ma un po', Shiva un po', tu hai esagerato. L'italiano non è facile, comunque la prima per me è, la prima storfa è migliore, quando fa, ho più annelli di uno sindaco, no, ho più annelli, non è facile. Vabbè ragazzi, l'ho scritto adesso, che mi devo ricordare tutto, ma che so io. La seconda spacca, la seconda storfa ci sta, ci sta, ma la prima è migliore, la seconda mi sembra più debole confrontata la prima. Fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa song, se Shiva non ne sbaglia una, se Shiva questa volta è accappato per voi. Metti like, condividi, iscriviti, è gratis, iscriviti, cazzo! Treneriti su Comoooooo!